Anche, e lo dico perché alle Olimpiadi di Londra, per chi non lo ricorda, mi fa piacere rappresentarlo, perché noi rispettiamo e spero che il cuore delle relazioni decidono. Rituriamo che a volte, però in maniera molto istituzionale, dobbiamo anche saperci, non dico forne, ma dobbiamo prendere delle strade più direttive di essere. Ora, l'ho rammento a tutti, per chi non dovesse essere la corrente, nel momento quando c'erano un buono sgogisi le Olimpiadi di Londra, circa dieci mesi prima, un epipaggio che era composto da due atleti, che erano uno, Alessio Sartori, che è più presente, che dopo vi presenterò, Romano Battisti furono messi fuori dalla rosa nazionale. Rituravamo immediatamente, però, come io vi dico sempre, l'allora di l'entrata tecnica, io non credo che avrebbe mai fatto una cosa se non fosse stato convinto che quella era la scelta migliore. Quindi, la scelta la rispetto, però non l'accetto, nel senso che sportivamente cerco di trovare sul campo delle ragioni alle mie tesi. E quindi, Franco, in quella di San Paoloia, si è rimboccato le maniche e come tecnico societario, mi ricordo di una riunione pseudotale che facemmo sotto un albero nella piazza del comune di San Paoloia, insieme con lui, insieme con Pecoraro, e abbiamo detto, beh, noi ci dobbiamo provare, perché nello sport bisogna che ci confrontiamo. Poi, il campo ci dirà se abbiamo ragione o un po' abbiamo canto. Cominciamo la preparazione, però questo è il equipaggio, naturalmente c'era un altro equipaggio federale, quindi si confrontarono al primo test del nostro, va bene, doveva essere naturalmente messo dentro, invece, come avviene, ma questo sta nella regola del 18, il messaggio fu o no, è andata bene stavolta, bisogna riconfermare, e va bene, e andiamo a riconfermare, riconfermare, abbiamo riconfermato, ne abbiamo due volte, bisogna dire che è riconfermata anche la terza, e la faccio breve, abbiamo riconfermato anche più volte, siamo andati alle qualificazioni politiche, la banca Fiamma Gialla si è qualificata, la federazione ha portato sette banche ad Atene, la nostra banca, e quando riconoscono la sottolinea nostra, vinse l'argento l'impio, le altre sei banche ancora le stanno aspettando. Allora, questo è uno degli esempi che ci fa piacere ricordare, perché significa che pur rispettando le scelte, di chi è deputato a fare le scelte, noi riteniamo comunque che lo sport sia benissimo. Accanto a lui un metterano dell'atletica, che è partenzionato, anche lui, visto che siamo venuti qui come società ostiez, lui, i suoi risultati, in particolare la medaglia di prozio olimpica, l'ha costruita praticamente a Castelpozziano, sulla pedana di Castelpozziano, in palestra a Castelpozziano, e quindi possiamo dire che uno degli atleti debile a 360 gradi la nostra realtà. Malgrado abbia qualche anno, ancora si intesta a chi, a volersi allenare, e chissà, noi c'erano qui, io vi auguriamo ad andare anche l'anno prossimo al Giorgio Lugici. Accanto a lui, Alessio Sartori, che è notato. Adesso viene da quei conosci progetti scolastici, ha vinto per tre medaglie avventieri, bronzo, argento e un oro. E oggi, dite un'altra, è anche il vice sindaco e l'assessore allo sport del pubblico di Sampaglia. Di noi, ho già raccontato la storia che l'ha legato alla vittoria, insieme con Batista e la Veraglio d'Argento a Londra, e oggi, tra l'altro, è anche impegnato in un'altra gara, e anche estremamente importante, e io vedo anche questa incertezione, è l'organizzazione per la prima volta della Coppa di Roma, la Coppa del Mondo, di Canottaccio a Sampaglio. L'ultima... Scusate, vi facciamo interagliare, grazie. Qui un applauso... Scusate, vi facciamo interagliare, grazie. L'ultima, e l'ultima, è un'altra, un'altra nostra diretta, la professoressa europea, avvergente all'ultimo ciclo, c'è già il ruoto in Svezia, sezione giovanile, figlia d'acqua, anche lei è una delle, c'è lei, giovani in tutta la nostra vita. Come vedete, come vedete, non abbiamo dovuto portare, altri atleti, che magari, poi magari non sarebbe potuto dire, abbiamo scelto delle persone che sono nate nel nostro ambiente, sono crescite nel nostro ambiente, e soprattutto tutti hanno fatto qualcosa per le viampeggiate, ma riteniamo che abbiamo fatto anche in parecchio. che ringrazio.